Avanti e indietro, tre anni, avanti e indietro, due volte, una, due volte alla settimana, Roberto e sua moglie, su, su, fatevi vedere. Laura, grazie, Laura, Roberto e Laura, non ho tempo per farli parlare oggi, parleranno un'altra volta. Adesso deve parlare qualcun altro. Ah, a proposito, molti mi hanno chiesto, ma quando citi quei racconti Jesus Freak, Jesus Freak è questo il libro, in inglese, abbiamo pensato di farvi un omaggio, cioè un omaggio lo farete voi, casomai. Allora, abbiamo tradotto 100 pagine, quelle che erano più attuali, dobbiamo fare fotocopie, rilegare tutto, siccome c'è un costo, chiediamo un'offerta di 5 euro per chi lo volesse, lo prenota in libreria, 5 euro, Massimo ha fatto la traduzione, è un po' di mesi che ci lavora, e sono state tradotte 100 pagine in italiano, non in un'altra lingua, in italiano. Quindi chi lo volesse, in coppia, sono 100 pagine, verrà rilegato, con tutta una cosa, un lavoretto fatto bene, dovete prenotarlo con un'offerta di 5 euro per le spese di produzione, proprio spese vive. Di che cosa parla? Sono tutte testimonianze di martiri del nostro secolo. Qualcosa avete sentito quando cito i racconti di quelli che sono rimasti fermi nella fede, sono stati torturati, sono stati massacrati, sono stati uccisi, ma non hanno rinnegato il nome di Gesù. Vi posso garantire che è molto incoraggiante quando siamo un po' depressi, quando siamo dubbiosi, quando non abbiamo voglia di servire, quando abbiamo... leggiamo un racconto di questi, vediamo che ci rimettiamo subito in pista, perché chi siamo noi di fronte a questi ragazzi, per lo più, ragazzi, giovani, che hanno dato la vita per Gesù. Gesù sfricche, sono i fuori di testa per Gesù, vuol dire che non hanno mai ritenuto la loro vita più importante di quella di Gesù, e quindi hanno sacrificato la loro vita. Sarà a disposizione, è finito, bisogna iniziare a fare le stampe per chi lo volesse. Ok? Ok. Sabato c'è un evento. Ora tu dimmi, sabato c'è un evento, cos'hanno organizzato per lui? Oggi vanno a fare rafting, nel senso, nel senso, non si stasse e torni. Era una sorpresa? Va bene, niente, ma non c'è neanche... Sì, sì, no, ditemi che sono delle sorprese, bello. Vai, vai, dopo ti portano fuori a cena, vai, di qualcosa. Sono emozionatissimo. Anch'io. L'uomo gaff. Voglio innanzitutto ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto nella nostra vita. Chi ci conosce bene sa come siamo arrivati, quello che abbiamo passato, però al piano di Dio è stato perfetto nella nostra vita e quindi tutte le persone, magari che è più giovane, nella fede, che aspetta delle risposte, confidate in Dio perché al momento opportuno opererà. Grazie a tutti, a chi ci è stato vicino, la cerimonia ovviamente è aperta a tutti, poi solo alle ore 16. Soltanto per problemi economici non abbiamo potuto invitare tutti, ma avremmo voluto. Mi faccio vedere come è lui in questo momento. Dio vi benedica. Grazie. Domenica loro non ci saranno probabilmente. Ho venito? Non so. Però, perché sono i due sposini ultimi qua? Loro c'erano domenica dopo, no? Hai visto? Loro sono venuti. No, neanche voi, come mai non siete venuti? Ciao, via, via, via. So, io sono andato in chiesa dopo il matrimonio, ma non ci crede nessuno, ero sull'aereo. Aspetta che c'è ancora qualcosa da fare. Ah ragazzi, da oggi ufficialmente Roberto e Cettina sono tornati a casa, eh? Roberto. Siccome ha detto, torno a casa prima io, ho lasciato Cettina a pulire, quindi, ottimo, ottimo. Dunque, dunque, l'Elba l'ho detto, Sandy l'ho detto, Paolo e Vittorio. Paolo e Vittorio, qui da me. Stiamo per fare una cosa sacra, non sto scherzando. Stiamo facendo un passaggio di consegne. E vieni su, ce la fai, ti do una mano. Dovrebbe essere responsabile dei giovani. Vieni testa. Allora, ci sarà un avvicendamento nei giovani, Vittorio si occuperà di altro, siccome è cresciuto in questo periodo. E' preoccupato di crescere. Si occuperà di quelli un po' più grandi. E Paolo prenderà il posto di Vittorio. Quindi, questo è ufficiale da questo momento. Quindi i giovani faranno capo a Paolo e Nina, chiaramente, che è rimasta lì, non ti ho chiamato giustamente, però stai lì. Io vorrei fare una cosa. Vorrei che pregassimo per loro, ma soprattutto che Vittorio pregasse per Paolo. E benedicesse quello che lui ha fatto per tanti anni in maniera esemplare. Non è facile. Non è facile. E' veramente qualcosa di duro. Ha perso i capelli, è ingrassato facendo tutto questo. Però è stato fedele e Dio lo ha premiato perché lo ha promosso. Siamo dato le superiori. Quindi, dobbiamo dire grazie a Vittorio. Per quanti anni? Tanti? 8? 10? 7? 7 anni ha servito con fedeltà? Lui sarà un 6-7 mesi. No, no, nel senso che diciamo che stiamo preparando il futuro. Loro sono il presente, ma stiamo preparando il futuro. Ok? Quindi vorrei che Vittorio pregasse per Paolo e benedicesse. Ci alziamo, vogliamo stendere le mani. E' un servizio straimportante. E' un servizio duro. I giovani sono giovani, sono vitali, hanno una vita proprio incredibile, hanno sempre voglia di fare qualcosa. Vabbè, dovrebbe essere così, insomma. Dovrebbe, no? Sono proprio pieni di vita, eh? Allora, prima vorrei dire... Prova, prova. Ok. Prima vorrei dire anche io due cose così, al volo. Vorrei ringraziare anche io il pastore perché comunque ero arrivato da poco in chiesa, nemmeno un annetto. E comunque ci ha dato subito la possibilità a mia moglie di poter lavorare e servire con il gruppo dei giovani. ed è stata una grande opportunità comunque per crescere e per essere formato. Per quello che Dio poi sta preparando, no? Quindi vorrei dire grazie anche al pastore Avalero sicuramente perché sono usati proprio per formare i ministeri. E questo non è facile. E poi sono contento perché comunque sia... Anche Paolo è venuto dal gruppo dei giovani. Come diceva l'apostolo Paolo, uno semina, l'altro annaffia. E' Dio che fa crescere. Quindi uno lavora, non c'era il gruppo dei giovani, ringrazio Dio che mi ha usato perché oggi siete qui. Paolo continuerà ad annaffiare e poi arriverà magari quello bello bello che non fa niente, raccoglie frutti, no? Perché poi alla fine è così. Però è tutta la volontà del Signore. Però ringrazio Dio veramente perché comunque anche all'interno dei giovani ci sono persone che desiderano crescere, che stanno servendo e lo faranno ancora. Amen? Amen. Signore, ti ringrazio per questo tempo, Padre, per ciò che farai. Ti ringrazio per la vita di Paolo, Signore, perché è stato fedele, Signore, anche lui in tutti questi anni nel servizio, con i ragazzi, Padre. E ti vorrei chiedere, Signore, che lui possa arrivare dove non sono arrivato io, Signore. Che possa continuare a portare innovazione, Signore. Che possa raccogliere anche lui, Signore, in questo tempo che servirà nei giovani, Signore. E che possa veramente avere una rivelazione per continuare l'opera, Signore, con i ragazzi che ci sono, Padre. E dare una rivelazione, Signore, una strategia per poter raggiungere ragazzi che sono ancora fuori, che stanno aspettando di arrivare, Padre. Ti prego che il tuo Spirito Santo, Signore, possa guidare ogni cosa, nell'amore, nella pace, Signore, nella collaborazione, Signore. E che questa Chiesa, Signore, possa veramente volare, Signore, per tuo Spirito, Signore. Possa riprendere nella piena potenza del tuo Spirito Santo per vedere, Signore, ogni ministerio fiorire, Signore. Io benedico il giovane, Signore, tutto ciò che faranno, Signore. In questo passaggio, Padre, io ti ringrazio, Signore, e benedico la vita del Pastore, di Valeria, Padre, e di tutti i leader. In nome di Gesù. Amen. E noi come Chiesa, Signore, vogliamo pregarti per Vittorio. Grazie per la sua fedeltà, grazie per la sua disponibilità, grazie per il suo cuore. Padre, grazie perché lui non ha ritenuto essere quello che stava facendo superiore a quello che tu hai preparato per lui, Signore. E ha lasciato, Signore, anche se immagino, Signore, nel suo cuore, il dispiacere, Signore, di non lavorare più con i giovani, ma sappiamo che tu hai in salvo sempre cose migliori, sempre cose più grandi. Noi lo vogliamo benedire, siamo a Rosa e i suoi figli, Signore, che possa continuare a portare frutto come ha fatto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Volevo dire, ce l'ho nel cuore, a volte guardando con gli occhi naturali, Dio ti chiede di cambiare qualcosa nella tua vita, però se guardi con gli occhi naturali pensi che stai lasciando qualcosa, ma quando veramente c'è il cuore per Dio, e guardi dalla prospettiva di Dio, allora ti accorgi che non stai lasciando qualcosa, Dio ti sta portando ad una rivelazione più alta di quella che è la sua presenza, di quella che è la sua chiamata per la tua vita. Questo è un incoraggiamento che voglio lasciare a tutti, giovani e non giovani, perché magari Dio ti chiederà il cambiamento nella vita oppure di lasciare quello che hai, ma non perché ti vuole parcheggiare, ma perché ti vuole portare ad una rivelazione più alta. Amen. Dio benedico. Amen. Grazie. Allora oggi ufficialmente partirà anche la scuola domenicale, ma prima di pregare per i bambini e per le monitrici, io credo che vi presento, allora l'altra volta avete conosciuto Maurizio che ha portato la sua testimonianza, oggi conoscerete la moglie Vanessa e Anna che loro hanno un coro gospel, li ho già invitati per il futuro, siccome il coro è andato a casa è rimasto il gospel, e allora ho detto, visto che ci siete voi, fateci un paio di pezzi, poi magari Vanessa ci dirà qualche cosa di edificante, che mi serve anche per la predica, diciamo che farà l'introduzione alla predica, poi pregheremo per i bambini, per le monitrici, che dopo la riunione incontrerò qua nella stanza degli ospiti, questa qua, ma adesso vi presento Anna e Vanessa, Vanessa e Anna, devo venire a prenderti? Senti le parole non ti mancano, vai, mi assetto, lei è una musicista, pensate che ho scoperto che suona da quando aveva 4 anni, quindi ragazzi, da quando aveva 4 anni di età ha iniziato a suonare, a 15 anni già era direttrice d'orchestra, voglio dire. Allora, siccome non tutti, credo, almeno che siete tutti prodigi, questo testo è in inglese, e non l'ho fatto per dispettere, così non capiscono, ma l'ho fatto perché le parole sono particolarmente adatte a quella che sarà poi la mia testimonianza, e dicono così, vi faccio un sunto, non devi preoccuparti e non devi avere paura, la gioia arriva al mattino e i problemi non possono durare per sempre, perché c'è un amico in Gesù che asciugherà le tue lacrime, e se il tuo cuore è rotto, alza le tue mani e dichiara, so che con lui ce la posso fare, so che posso superare, non importa quello che succede nella mia vita, la mia vita è nelle tue mani. Gesù può, con Gesù io posso vincere, la mia vita è nelle sue mani, e anche quando le prove e i problemi sembrano abbattermi, e tutte le persone che noi amiamo sembrano sparire, ricordati che hai un amico in Gesù, e che asciugherà le tue lacrime, e se il tuo cuore è rotto, alza le tue mani e dì, so che posso farcela. Gesù può, con Gesù, e non ti fai affremmati, fai come in the morning, troubles, they don't last always, for there's a friend named Jesus Who will wipe your tears away? And if your heart is broken Just lift your hands and say You don't have to worry And don't you be afraid Joy comes in the morning Troubles late or last always For there's a friend like Jesus Who will wipe your tears away? And if your heart is broken Just lift your hands and say I know that I can break it I know that I can stand No matter what Make up my way My life is in your hands I don't have to worry And don't you be afraid Joy comes in the morning Troubles late or last always For there's a friend like Jesus Who will wipe your tears away? And if your heart is broken Just lift your hands and say Oh, I know that I can make it I know that I can stand No matter what Make up my way My life is in your hands Oh, I know that I can stand Oh, I know that I can stand I know that I can stand No matter what Make up my way My life is in your hands 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 Grazie a lot of Sinnoh 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 Adesso facciamo un po' di aerobica L'Od aerobica anche noi sacrifichiamo la nostra vita per Cristo perché alla fine è una sorpresa no non cade casco queste improvvisate a me qui dovete cantare anche voi yes magari facciamoli alzare così fanno una roba perché no sì sì ok tanto il canto lo sapete poi magari se sopravviviamo lo rifacciamo perché non venite se anche voi mi riesco a cantare sì lo sapete sì ci sono quattro parole in croce dai 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 allora attenzione adesso è una cosa molto seria deve scoppiare la chiesa di gioia dove è Maria? allora quando vi faccio così per adesso dovete fare vi aiuto io è una cosa serissima serissima no no veramente allora è una cosa serissima Ehi 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 Alleluia Ehi Alleluia Ehi 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 density ân Do пис Ich y Ehi Und Das 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 Wie let it shine let it shine Amen Amen Alleluia Amen Alleluia Amen 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 Alleluia Amen 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 Amen, Amen Amen, Amen Amen Anna Garaffa, direttamente da X Factor Non sto scherzando, lei lavora a X Factor Attenzione per favore Allora L'introduzione alla predica È sempre un momento molto emozionante per me Perché quello che sto condividendo con voi È qualcosa che non è successo molto tempo fa E quindi è ancora qualcosa che tocca le corde del mio cuore Perché riguarda una parte molto delicata della mia vita Nel mese di maggio mio papà si è ammalato Esattamente il 15 di maggio è entrato in coma Quel giorno io non stavo molto bene Quindi ho chiamato mia mamma per dire che non sarei andata all'ospedale da mio padre Perché volevo andare all'ospedale Ero certa di avere una colica renale in corso E quindi ho chiamato mia mamma Ma quando ho chiamato mia mamma Mia mamma mi ha risposto piangendo Dicendomi no devi venire Papà è entrato in coma E quindi io Chiaramente per amore Ho messo da parte la mia sofferenza E sono andata in ospedale Per farla breve Per i successivi 15 giorni Mio papà si è aggravato sempre di più Io continuavo a avere questi forti dolori Ma ho continuamente messo da parte la mia sofferenza Per godere gli ultimi istanti con mio papà Il giorno del funerale di mio papà stavo malissimo Era un venerdì Ho preso tutti i farmaci Oltre al fatto che chiaramente Sono finita in ospedale tre volte E tre volte mi hanno fatto una diagnosi sbagliata Mi hanno riepito di farmaci Dicendomi che erano coliche renale Che poi erano occlusione intestinale E ovviamente Mi sono fidata dei medici Sono andata avanti con la terapia che mi avevano dato Fino a quando il lunedì Successivo al funerale di mio papà Sono andata in ufficio E in ufficio ho sentito Che il dolore stava cambiando Stava degenerando Quindi quando ho timbrato il mio cartellino Alle 12 e mezza mi sono messa in macchina E ho davvero faticato a guidare Per arrivare a casa Ho pregato Ho detto Signore mi sento male Accompagnami a casa E quando ho varcato la porta di casa C'era mio marito E mi hanno ceduto le gambe Mi sono buttata per terra Ho detto a mio marito Io mi sento male Devi portarmi subito pronto soccorso Perché io sto morendo Chiaramente non è una bella dichiarazione da fare Per chi conosce Dio E lui mi ha un po' sgridato Mi ha detto Non dire queste cose Ma io sentivo Che il mio dolore Era arrivato a un punto Dove non poteva andare oltre Oltre c'era soltanto la morte E quindi durante tutto il tragitto Lui pregava E pregavamo insieme Quando sono arrivata Nel tragitto ho avvisato il medico Il primario Che conosco Gli ho detto Dottore io sto malissimo Gli ho detto Appena arrivi in ospedale Fai il mio nome Ti fanno passare Scendo e ti visito Lì veramente ho visto I favori divini Quando si dicono Che i figli di Dio Godono di favori divini Perché davvero Quest'uomo È un medico Come tanti altri E pazienti come me Ne avrà centinaia Ma quel giorno È stato l'angelo Che Dio ha usato Per aprirmi porte In modo sopranaturale Quindi sono arrivata A pronto soccorso E ho detto Sono una paziente Lui professor Foschi E veramente porte aperte Fate entrare la signora Io l'ho piegata dal dolore E il medico Che mi ha accolto Che non era il primario Mi ha detto Chi sarà mai lei Che dobbiamo disturbare il primario E io gli ho Volevo dirgli Insomma guardi Veramente sono una figlia di Dio Mio papà è re dei re Quindi insomma Primario è solo un poverino In realtà Ma non potevo Non mi sarei buttata La zappa sui piedi E quindi Gli ho detto Guardi glielo spiegherà Il professore Lei lo chiami E nel momento in cui Ha alzato il telefono Ha detto Professor Foschi Mi spiace disturbarla Lui dall'altra parte Ha detto Sto arrivando E la signora lo può Arrivo Quindi 30 nani secondi È arrivato questo medico Ha letto tutti i referti Dei tre ricoveri precedenti Delle accettazioni Del pronto soccorso E lui ha avuto Un sospetto Che avesse una pancreatite Quindi ha ordinato Di portarmi immediatamente Nella sala TAC E di farmi un attacco Col mezzo di contrasto Premetto che Nel frattempo Mio marito Mi aveva lasciato All'ospedale Dicendo Ti faranno La solita Flebo Delle tre volte precedenti Io ti parcheggio qua Vado a prendere I bambini a scuola Poi tu Torno E ti porto a casa Purtroppo Non è andata Così questa volta Perché mentre Ero sotto l'attacco Ho capito Che c'era qualcosa Che non andava I medici Incominciavano a correre Di qua e di là Telefonate Consulti Si sono chiusi in una stanza Ho sentito un elicottero Che arrivava Ho detto Ecco adesso arriva L'emergenza Mi mollano qui Freddo Io ho la febbre altissima E invece a un certo punto È venuto il medico E mi ha detto Purtroppo Il tuo quadro clinico È devastante È molto severo Hai una trombosi addominale Con un'ischemia intestinale E la tua vena porta Ve lo dico brevemente È la vena che porta Il sangue dal cuore A tutti gli organi vitali La mia vena Era completamente occlusa Certo aveva peggiorato Il fatto che io Per 15 giorni Come la donna bionica Avessi sopportato Tutto il dolore Se fossi andata subito Magari Avrei fatto bene Però Io non è mai in ritardo Comunque E quindi Si è consultato Con un medico Un chirurgo E gli ha detto Guarda se apriamo Questa donna adesso La vena è talmente trombizzata Che letteralmente C'è scoppia in faccia E questa donna muore E gli ho detto No guardi Non voglio andare In sala operatoria Sono da sola Non vorrei morire da sola Aspettiamo mio marito E lui mi ha detto Se tu ti fidi di me E ti prendo in cura io Io proverei a salvarti E lì ho capito veramente Che quell'uomo Era mandato da Dio Quindi mi ha spostato Il reparto Mi hanno fatto Terapie d'urto Dolore Permetto che veramente Il dolore era Ho quattro figli Li rifarei Tutti e quattro Uno in seguito all'altro Pur di non risopportare Il dolore di una trombosi E man mano che facevano Le terapie Avevo morfina Fissa in vena Il quadro peggiorava Tant'è che un giorno È venuta questa dottoressa Alla quale il chirurgo Medico Il primario Mi aveva affidato E mi ha detto Ho bisogno di parlare Con tuo marito Ho detto bene Dovrà chiamare il becchino E ho visto la faccia Di mio marito Quando è rientrato in camera Occhi lucidi Ma composto Doveva essere Forte per me E gli ho detto Non voglio vederti Con la faccia Si tratta di me Si tratta della mia vita E io voglio sapere Che cosa sta succedendo E mio marito Mi ha detto Scusate Che la diagnosi era Che se fossi sopravvissuta Quella trombosi Avrebbero dovuto Asportarmi l'intestino E avrei dovuto Vivere tutta la vita Con un sacchetto Per raccogliere le feci A quel punto La disperazione Ha invaso La mia testa Il mio cuore La mia anima Ma Il mio spirito Ha immediatamente Rivolto Suo sguardo Verso il cielo Ha detto Signore Se non sono morta Di trombosi Di certo Questo non è quello Che tu hai preparato Per me E se il mio fisico Parla così Tu sei più grande Del mio fisico I miei pastori Erano In Sicilia In quel periodo A predicare E quando i miei pastori Hanno saputo questa cosa Ovviamente Si sono molto agitati E il pastore Il mio pastore Il pastore Chiara Mi ha chiamato Una mattina Dicendomi Appena ho saputo Questa cosa Ho passato la notte Piangendo E pregando per te Lo spirito santo Mi ha dato un versetto Si trova nel salmo 27 Al versetto 3 Ve lo riassumo brevemente Dice Anche quando i tuoi nemici Ti assaliranno Per divorare la tua carne Essi stessi Saranno confusi Io ho fatto mio Quel versetto Ogni giorno Dei 29 giorni Che ho passato in ospedale Perché man mano Il quadro peggiorava Avevo delle ricadute Dei dolori lancinanti E durante una crisi In cui il dolore È diventato così acuto Che sono andata In emergenza Ho detto a mio marito Prendi la Bibbia E leggimi il salmo Leggimi quel versetto E mentre i medici Mi infilavano tubi E aghi dappertutto Io ho proclamato E dichiarato Che i miei nemici Sarebbero stati confusi E che non avrebbero Divorato la mia carne E dopo 20 giorni C'era il controllo Da fare L'attac Che avrebbe decretato Loro avevano già fatto Preparare la sala operatoria E io ho pregato Sono andata tranquilla In tac E ho detto Signore Il mio nemico Non divorerà la mia carne E non mi verrà torto Nemmeno un capello Quindi sono andata A fare l'attac Tranquilla E sono tornata in camera Sono tornata in camera Ero sul tavolo Che stavo mangiando qualcosa Ed è arrivata una dottoressa Con un sorriso Da qui E mi ha detto E gli ho detto È arrivato l'esito Dell'attac Lei mi dice Guardi Non ho ancora nulla Di scritto Però ero talmente In ansia per lei Che ho chiamato Il reparto E mi sono fatta anticipare Sorprendentemente Sapete I medici Non diranno mai Miracolosamente Ma in quel Sorprendentemente Il suo intestino È tornato in vita E io sono chiaramente Scoppiata a piangere Ma no Ma io piango Perché ho vinto E Il miracolo più grande Grazie Sapete qual è? Oltre alla guarigione L'aver Realizzato Dopo anni Di conversione A volte Sapete Noi sappiamo le cose Perché è scritto Perché le sentiamo Predicare Perché l'hanno detto Al convegno Perché l'hanno detto In televisione Perché sappiamo Sappiamo che Dobbiamo dichiarare la parola Ma quando tu ti trovi Davanti a situazioni Dove evidentemente Non La parola Nella quale tu credi Non è quello che vedi È lì che siamo chiamati A dichiarare Dio con il mondo Ha creato la parola Ha detto Dio disse Sia la luce E la luce fu Nella mia dichiarazione Non mi sarà torto Nessun capello E i miei nemici Non divoreranno La mia carne Mi sono aggrappata Tenacemente Spirito, anima e corpo A quella che è La verità Per noi Questa è L'importanza Del dichiarare Del credere Quello che è Il nostro testamento La parola di Dio Tutte le promesse Che ci sono Scritte lì Sono cose Che dobbiamo fare Nostre nel quotidiano Quando preghiamo Per i nostri figli Proclamare cose Che vanno anche contro Quello che noi vediamo Quando abbiamo Una malattia Dichiarare Anche quello Che noi non vediamo In ogni circostanza Veramente Vi esorto Anche perché Poi sapete Questa vittoria Non è stata Solo una vittoria Fisica per me È stata una vittoria Spirituale Perché è chiaramente Una testimonianza Così è una testimonianza Forte Anche per i medici Che mi hanno dimessa Dopo 29 giorni Quando mi avevano detto Mettiti l'anima in pace E starai mesi In ospedale Quando mi hanno dimessa Mi hanno chiamato Un miracolo vivente E quindi veramente Vi incoraggio A ricordarvi sempre Che Dio non è un figlio D'uomo che può mentire Nemmeno si pente Quello che è scritto Lui lo farà Chiamate le promesse Sulla vostra vita Dichiarate Perché siamo più che vincitori Amen Amen Siccome il titolo del messaggio È Dio vuole farci del bene Credevo che questo Potrebbe essere Una buona introduzione Vi ho detto che questa È una coppia Che potrebbe raccontare Miracoli Li inviterò ancora Perché vorro dargli Più spazio Ma veramente Avete sentito Come è stato Miracolato Maurizio Che è uscito Dalla Tossicodipendenza Più dura Senza aiuto Di nessun uomo E questo di Vanessa È una cosa recente Mentre stava seppellendo Il papà Insomma Cose tremende Avete sentito Due cosine Però credo che Sentire Ci incoraggia No? Ci incoraggia I bambini Anche i bambini Sono Miracolati Che hanno delle Monetrici straordinarie No dovete venire qua Non andare via Qua Stavano andando via Stavano scappando Tu stai piangendo Bravo Pensate che siano finiti Invece no Quelli del Questi Sì Gli altri Il prossimo Il prossimo anno Quando crescono Wow Che meraviglia Facciamo un applauso A questi bimbi Che meraviglia Il capo Vi vuole di là Il capo Vi vuole di là Il capo Cioè Di là non ci state Però Vabbè Fermi tutti Ok Vogliamo alzarci Vogliamo pregare Perché la scuola Domenicale Ufficialmente inizia Sarà Un anno impegnativo Un anno intenso In cui le monetrici Saranno provate duramente Noi vogliamo pregare Che i bambini Possano Apprendere Quello che verrà loro Insegnato Che possono stare tranquilli E di dare pazienza Sapienza Alle monetrici Amen Vogliamo stendere le nostre mani Padre ti diciamo grazie Per questo inizio Sappiamo che Non è facile Signore Per le monetrici Perché i bambini Sono vivaci Per i bambini Sono il tuo tesoro Sono il tuo dono Noi vogliamo Benedire ogni monetrice Che E ogni monitore Che si occuperà di loro Signore Che insegnerà loro La tua parola In maniera giocosa Signore Ma vogliamo Benedire i bambini Che possono essere Tranquilli Sereni Che possono stare bene Che possono veramente Continuare a crescere Nelle tue vie Signore Diamo loro ogni cosa Finché un giorno Ti potranno servire Signore Noi vogliamo profetizzare Fin d'ora Che questi bimbi Sanno i tuoi servi Nel nome di Gesù Noi li vogliamo Benedire Finché tu li possa Proteggere Signore E possa farli crescere Nelle tue vie Grazie Padre Nel nome di Gesù Per questo nuovo inizio E per la vittoria finale Amen Amen Vuoi dire qualcosa? Subito Appena finisce il culto Nella stanza degli ospiti Monetrice Monitori Con me Amen Vai Via Grazie Accomoratevi Vanessa come stai? Meglio? Quando finisce la scuola domenicale Starei bene Amen Allora E' molto tardi Cercherò di essere Molto conciso Tanto la testimonianza di Vanessa Ha aperto Aperto in maniera Meravigliosa Quello che voleva essere Il tema di oggi Che Dio ha messo nel mio cuore Io credo che niente al caso Il fatto che Vanessa Erano all'isola d'Elba Tra l'altro A cantare gospel All'isola d'Elba Sono stati due giorni Loro sono partiti Mentre voi arrivevate Però Non è detto che Non lo possiamo rifare In maniera più Strutturata E sentendo La storia di Vanessa Io sono convinto Che Dio Vuole farci del bene Sapete La Bibbia dice Che Se noi che siamo malvagi Sappiamo dare cose buone Ai nostri figli E chi di noi Non vuole dare cose buone Ai nostri figli Tanto più Il nostro padre celeste Gli dice Ci darà lo spirito santo Ma ci darà tutto quello Di cui abbiamo bisogno Ci darà le cose che ci servono Ci darà tutto quello Per cui noi possiamo Attingere Direttamente dalla sua grazia E Dio vuole farci del bene Ancora oggi Il fatto che Dio vuole farci del bene Non è Un qualcosa del passato È un qualcosa del presente Dio ci voleva fare del bene Ci vuole fare del bene E vorrà sempre farci del bene E Di una cosa sono certo Io voglio il meglio Per i miei figli Voglio veramente bene I miei figli E voglio il meglio Per i miei figli Io li amo E sono certo Che Dio vuole il meglio Anche per noi Amen E mentre leggevo Questo passaggio Proprio è venuto fuori Così In maniera meravigliosa Questo cuore di Dio Per i suoi figli Per il suo popolo Deuteronomio Capitolo 30 Leggiamo un po' di versetti Però vi vorrei fare notare E ve lo dico fin da ora Che per 13 volte Per 13 volte In 10 versetti Viene detto Il Signore Il tuo Dio Il Signore Il tuo Dio E non è un caso Che per 13 volte Venga ripetuto Il Signore Il tuo Dio Perché Qui Veramente il Dio Vuole che noi Entriamo in questa Consapevolezza Che il Signore E il nostro Dio Il Dio del patto Il Dio dei miracoli Il Dio della grazia È il nostro Dio Quando tutte queste cose Che io ho messe davanti a te La benedizione E la maledizione Si saranno realizzate Per te E tu le ricorderai Nel tuo cuore Ditele le ricorderai Nel tuo cuore Dove le dobbiamo ricordare Le cose che Dio ci ha promesse Nel cuore Dite nel cuore Nel cuore Eh pensavo nella mente Dite nel cuore È importante questo Perché adesso Mi fermerò su due o tre punti Non c'ho tempo per fare tutto Ma Questo è un passaggio Importantissimo Dovunque il Signore Il tuo Dio Ti avrà sospinto In mezzo alle nazioni Ti convertirai Al Signore Il tuo Dio E ubbidirai Alla sua voce Tu e i tuoi figli Con tutto il tuo cuore Con tutta l'animativo Secondo tutto ciò Che oggi io ti comando Il Signore Il tuo Dio Farà ritornare i tuoi Dalla schiavitù Avrà pietà di te E ti raccoglierà di nuovo Fra tutti i popoli Fra i quali Il Signore Il tuo Dio Ti avrà disperso Quando anche i tuoi esoli Fossero all'estremità dei cieli Di là Il Signore Il tuo Dio Ti raccoglierà E di là Ti prenderà Il Signore Il tuo Dio Ti ricondurrà nel paese Che i tuoi padri Avevano posseduto E tu lo possederai Ed egli ti farà Del bene E ti moltiplicherà Più dei tuoi padri Il Signore Il tuo Dio Circonciderà Il tuo cuore E il cuore Dei tuoi discendenti Affinché tu ami Il Signore Il tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta l'anima tua E così tu viva Il Signore Il tuo Dio Farà cadere Tutte queste maledizioni Sui tuoi nemici E su tutti quelli Che ti avranno odiato E perseguitato Tu ritornerai E ubbidirai Alla voce del Signore Metterai in pratica Tutti Questi comandamenti Che oggi ti do E ubbidirai Alla voce Del Signore Il tuo Dio Il tuo Dio Ti colmerà di beni Moltiplicherà Tutta l'opera Delle tue mani Il frutto del tuo seno Il frutto del tuo bestiame Il frutto della tua terra Guardate cosa dice Perché il Signore Si compiacerà di nuovo Nel farti del bene Come si compiacque Nel farlo ai tuoi padri Perché ubbidirai Alla voce del Signore Tuo Dio Osservando i suoi comandamenti I suoi precetti Scritti in questo libro Della legge Perché ritornerai Al Signore Tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta la tua amica Amen E' un passaggio meraviglioso Sono promesse meravigliose Sapete Io credo che questo passaggio Deve essere considerato Una promessa Che appartiene Per tutte le nazioni Per tutti i popoli E per ogni tempo E credo che lo scopo Di questo passaggio È quello di Ricordarci Di assicurarci Che tutti coloro Che tornano a lui Che tutti coloro Che ancora oggi Si pentono Si ravvedono E tornano a lui Con un cuore sincero Lui li riaccoglie Perché è il Signore Il nostro Dio E' un Dio d'amore E' un Dio di patto Amen E quindi Questo è lo scopo Del patto basato Sulla grazia Quello di perdonare E riaccettare Tutti coloro Che tornano a lui Vedete Perché vi ho fatto dire Ti ricorderai Nel tuo cuore La Bibbia cosa dice Che con il cuore si crede E con la bocca Si fa confessione E nel cuore Che risiede La vera fede E nel cuore Che risiede Il fatto di credere veramente E quando lui Ti dice questo Quello che hai creduto Nel tuo cuore Ce lo dice perché Noi dobbiamo Dobbiamo proteggere Quello che abbiamo creduto Vedete la testimonianza Che abbiamo sentito Noi dobbiamo proteggere Quello che abbiamo creduto Dobbiamo proteggere La parola di Dio Che abbiamo ricevuto La dobbiamo conservare La dobbiamo ricordare La dobbiamo mettere in pratica Perché? Perché spesso Quando succedono le cose Che sono successe a Vanessa Che possono succedere a tutti Qua abbiamo avuto Abbiamo avuto veramente Momenti di disperazione Momenti di lutto Ma quando succedono Certe cose Noi dobbiamo pensare Che il ladro Viene per rubare Uccidere Distruggere Quindi ci sarà La circostanza Che ci vuole rubare Quello che Dio Vuole fare per noi Quello che Dio Ci ha promesso Allora dobbiamo Conservare le sue promesse Nel suo cuore Arriverà il dubbio Ci assalirà il dubbio Quando siamo in una situazione così È facile dire È finita Rinuncio Rinuncio a lottare Oppure dov'è Dio E il diavolo inizia a mettere Dubbi nella nostra mente Inizia a mettere dubbi Nel nostro cuore Ma è qui che dobbiamo Conservare la parola È qui che dobbiamo Ricordarci delle sue promesse Quando tu le conservi Nel tuo cuore Rimarranno depositate In un luogo sicuro E ogni volta Avrai la possibilità Di attingerle E di dichiarare La parola di Dio È così importante Certamente per dichiarare La parola di Dio Dobbiamo anche conoscere La parola di Dio E quindi Dobbiamo Sforzarci di leggere La parola di Dio Di meditare la parola di Dio Di farla diventare nostra Deve essere la nostra compagna di vita La nostra compagna di viaggio Noi siamo in un viaggio Stiamo facendo un viaggio E la parola di Dio C'è scritto in un salmo Che è la lampada Al nostro piede Questa lampada Al nostro piede È per non inciampare È per non cadere È per andare Dritti e sicuri Verso la meta Amen Ecco perché è così importante Ricordare la parola Che è stata depositata Nel nostro cuore Guardate I dubbi Prima o poi Assalgono tutti Arriverà il momento In cui mettiamo In dubbio Qualche cosa Arriverà il momento In cui Ci sarà una circostanza Così dura Così forte Così feroce Che ci farà mettere In dubbio La verità Della parola di Dio Ed è per quello Che dobbiamo custodire Le ricorderai Nel tuo cuore C'è scritto Dovunque andrai Dovunque sarai Tu potrai pregare Perché tu Hai la parola di Dio Depositata nel tuo cuore Sapete Nella mente Ci sono le battaglie Se noi pensiamo Di avere la parola di Dio Nella mente Allora Spesso ce la dimenticheremo Perché? Perché Le battaglie Arrivano nella mente Perché la mente È presa da mille pensieri È presa dall'agitazione Della quotidianità Ma nel nostro cuore Invece è depositata La verità Perché? Perché nel nostro cuore È la sede Dove c'è Veramente Il nostro anima Il nostro spirito Che possono ricordare Con fermezza Avete sentito Vanessa stava male Il corpo non rispondeva più Ma il suo spirito Aveva una certezza Questa parola Che io ho ricevuto È quella che mi farà del bene Avere la parola E ricordare la parola Dove la dobbiamo ricordare? Nel nostro cuore Questo è il consiglio Che Dio sta dando Attraverso Mosè Al suo popolo Dice dovunque il Signore Il tuo Dio Ti avrà sospinto In mezzo alle nazioni Ti convertirai al Signore Il tuo Dio E obbiderai alla sua voce Tu e i tuoi figli Con tutto il tuo cuore Con tutta l'anima tua Secondo tutto ciò Che io ti comando Il Signore il tuo Dio Farà miracoli per te Ti farà ritornare Ti darà i bisogni Del tuo cuore Ti darà quello Di cui ti serve Certamente ci sono Delle condizioni Certamente non possiamo Non vedere Quello che sta dicendo Io credo che viviamo Nel tempo della grazia Gloria a Dio Ma vivere nel tempo della grazia Non vuol dire Che possiamo fare Quello che vogliamo Non vuol dire Che possiamo Dimenticare Chi è Dio Dio è un Dio di patto È un Dio serio È un Dio che Vuole Qualche cosa Sapete Vuole tutto il nostro cuore E dice Se ti troverà obbediente Alla sua legge Alla sua parola E io dico Se ti troverà obbediente Facendo la sua volontà Allora lui sarà lì Per liberarti Da ogni situazione negativa Sarà lì per incoraggiarti Sarà lì per riportarti indietro Sarà lì perché vuole farti del bene Sapete Dio è felice Quando può farci del bene Io sono veramente felice Quando posso fare del bene ai miei figli E sono molto felice Quando mio figlio Mi viene a chiedere qualcosa E devo dire A volte non ascoltiamo sufficientemente I nostri figli È vero o non è vero Nella Nella confusione del quotidiano A volte i nostri figli passano In secondo piano Mentre i nostri figli Hanno bisogno di noi E hanno bisogno di essere ascoltati da noi Perché Perché noi siamo I loro genitori Perché loro da noi si aspettano Che gli diamo quello di cui hanno bisogno Che gli diamo il meglio Esattamente come i nostri figli Si aspettano questo Così noi ci aspettiamo questo da Dio È un paragone naturale Ma è efficace Dio vuole farci del bene Ed è felice quando ce lo può fare Così come noi vogliamo fare del bene ai nostri figli Ed egli risponde in maniera speciale Quando noi ci facciamo trovare pronti a fare la sua volontà Ha detto Certamente quando abbiamo a che fare con Dio Dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con Dio Dio non è un uomo che si pente Ma non è neanche un uomo che si possa prendere in giro A volte noi ci dimentichiamo con chi abbiamo a che fare Noi abbiamo a che fare con un Dio E le nostre scelte non devono essere scelte fatte con leggerezza Noi abbiamo a che fare con un Dio santo Con un Dio giusto Con un Dio meraviglioso E la sua leggere deve essere scritta nei nostri cuori Ma la nostra deve essere anche un'ubbidienza volontaria Un'ubbidienza sincera Un'ubbidienza completa Sapete queste tre caratteristiche le troviamo qua come richiesta La nostra obbidienza deve essere sincera Cioè avere la giusta motivazione A volte noi facciamo finta di ubbidire Perché abbiamo delle condizioni favorevoli Pensiamo che tornerebbero poi a casa Ma Dio conosce il cuore Non possiamo prenderci gioco di lui Quindi quando diciamo che stiamo ubbidendo la sua volontà Deve essere un'ubbidienza sincera Se diciamo che vogliamo ubbidire la sua volontà Dobbiamo ubbidire veramente la sua volontà E poi deve essere volontaria Perché? Perché non deve compiacere altri Io non devo ubbidire nel fare qualcosa Che mi viene chiesto Perché così faccio piacere al pastore Faccio piacere agli anziani Faccio piacere all'amico Faccio piacere alla mamma La nonna, la sorella No, io devo farlo unicamente perché voglio fare piacere a Dio Voglio fare piacere al mio Dio E poi la nostra ubbidienza deve essere completa Cioè totale, non parziale Molte volte noi decidiamo di ubbidire quando ci conviene Quando abbiamo un tornaconto Quando c'è uno scopo da raggiungere Questa non è ubbidienza Noi dobbiamo semplicemente dichiarare la nostra ubbidienza totale a Dio Dicendo come Gesù Si è fatta la tua volontà Si è fatta la tua volontà Non la mia volontà ma la tua si è fatta Nelle circostanze positive e nelle circostanze negative Non è facile dichiarare si è fatta la tua volontà In un letto di ospedale Ma si è fatta la tua volontà E la volontà di Dio è quella che ci vuole fare del bene Amen Dobbiamo capire Dio vuole farci del bene Lo ha dichiarato qua E ci sono altri tre passaggi nella parola di Dio Dove dichiara questo al suo popolo Dio vuole farti del bene Amen Ma soprattutto quando decidiamo di fare la volontà di Dio Quando decidiamo di ubbidire a Dio Dobbiamo fare con l'amore Nell'amore Con tutta la nostra anima E con tutto il nostro cuore Perché? Perché Dio è lì che sa Che ci sono veramente i nostri desideri È lì che sa se c'è veramente un amore vero verso di Lui Nel nostro cuore e nella nostra anima Il nostro cuore e la nostra anima sono quelli che Dio guarda Sono quelli che Dio tiene sotto controllo E Lui li vuole completamente per sé A volte noi facciamo fatica a dargli tutto il nostro cuore A volte noi diciamo Il mio cuore ti appartiene Poi però nel mio cuore ci sono spazietti Che non sono solo per Dio Sono anche per altri Sono per quelle cose che non onorano Dio Sono per quelle cose occulte Che un giorno verranno purtroppo palesate Sono per quelle cose che ci fanno ogni tanto inciampare Ma la parola di Dio ci sta dicendo Che Lui vuole tutto il nostro cuore E tutta la nostra anima Esattamente quando riassumiamo il comandamento Che dice Gesù che dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore Con tutta la nostra anima Con tutta la nostra forza Con tutta la nostra mente Dio vuole tutto Non si è contenta di qualcosa Non si è contenta di una parte Dio vuole tutto Ma questo tutto non vuol dire che dobbiamo togliere a altri Non vuol dire che togliamo affetti Perché Dio non toglie affetto a nessuno Però quando noi decidiamo Abbiamo sentito la volta scorsa Che la prova porta benedizione C'era Mario che predicava La prova porta benedizione A volte Dio ci vuole provare Per portarci a un livello superiore Perché vuole benedirci Abbiamo parlato di Abramo Ha raccontato quando Abramo doveva sacrificare Isacco Una prova forte Che però poi ha portato a una dichiarazione di Dio Io ti benedirò Ti farò padre Ti darò quella La prova porta benedizione Ma perché questo? Perché Dio anche nella prova C'ha in mente qualche cosa Che nel suo progetto esiste da sempre Vuole farci del bene In Giacomo c'è scritto Che noi saremo provati per essere approvati Dio a volte ci prova per approvarci Perché? Perché Dio vuole farci del bene E sapete Dio promette al suo popolo In questo passaggio Che dovunque andranno Ovunque saranno Nelle difficoltà Nelle preghiere Loro potranno raggiungere Dio Il loro Dio Perché l'orecchio di Dio È attento E troveranno sempre il suo favore Sapete che Questa parola Esattamente come è avvenuto per Vanessa È stata usata da Neemia In un momento di difficoltà Lui ha preso questa parola E l'ha usata E Neemia 1.8 c'è scritto Ricordati della parola Che ordinaste al tuo servo Mosè Quindi Neemia sta discutendo Dio Ricordati di quello Sta dicendo Dio Ricordati tu di quello che hai dichiarato Ricordati della parola Che ordinaste al tuo servo Mosè Di pronunciare Se sarete infedeli Io vi disperderò fra i popoli Ma se tornerete a me E osserverete i miei comandamenti E li metterete in pratica Anche se sarete dispersi Negli estremi confini del mondo Io di là vi raccoglierò E vi ricondurrò Il luogo che ho scelto per farne La dimora del mio nome Qua Neemia ci sta insegnando Quello che abbiamo sentito oggi Prendiamo la parola di Dio E dichiariamola E usiamola Quando siamo nei momenti di difficoltà Amen Perché Dio Sta dicendo questo? Per il nostro bene Sia nel verso 5 Che nel verso 9 Dice Dio vuole farti del bene E si compiace Nel farlo Il verbo compiacere E prendere soddisfazione E gioire E trovare veramente piacere Gioia Nel fare qualcosa Io mi compiaccio Quando posso Predicare la parola di Dio Sotto ispirazione Perché so che sto facendo Qualcosa di buono Compiacere Fare le cose Per fare del bene E vedete Quello che vi ho detto prima Se voi leggete Deuteronomio 29 Troverete che lì Mosè Usa Sempre la parola Signore Non il Signore Il tuo Dio Usa la parola Signore E lì sta proprio A indicare E indica Un Dio Un Dio di giudizio Un Dio giusto Un Dio che giudica Tutto in maniera giusta Poi improvvisamente Nel capitolo 30 Inizia a giungere Il tuo Dio Il Signore Il tuo Dio Per 13 volte In 10 versetti Dice il Signore Il tuo Dio Perché? Perché ci sta ricordando Proprio questo Che il Signore È il nostro Dio È il Dio del patto Che ci vuole fare del bene È il Dio che ci vuole fare del bene Non è per noi Il Dio giudice Che vuole giudicarci È il Dio del patto Che vuole farci del bene Visto? Com'è cambiata la cosa È il Dio giudice Prima Ma una volta che noi Abbiamo conosciuto Gesù Diventa il Dio del patto Che vuole farci del bene Una volta che noi siamo Il suo popolo Diventa il Dio del patto Che vuole farci del bene Il Signore Il tuo Dio Non è il Signore Dio di qualcun altro È il tuo Dio È il Dio Che si è fatto conoscere Personalmente da noi Che si è fatto conoscere Personalmente da te È il Dio Che ha pagato un prezzo Finché tu potessi rinascere È il Dio Che sta guidando i tuoi passi È il Dio Che ti sta dando Le giuste motivazioni È il Dio Che ti sta spingendo Verso una meta È il Dio Che ti sta guidando È il Dio Che ti sta soccorrendo È il Dio Che ti sta incoraggiando Il Signore Il tuo Dio Ti vuole bene Ti ama E vuole farti del bene Amen Perché? Perché siamo Suoi figli Perché? Perché siamo speciali Forse non ci siamo resi conto Di quanto siamo speciali Per il Signore Forse non ci siamo resi conto Di cosa ha pagato Dio per acquistarci C'è scritto che ha pagato Un prezzo altissimo Il sangue di Gesù È servito per acquistare Ognuno di noi Quindi noi siamo speciali Di alla persona a fianco Tu sei speciale per Dio Voi siete speciali per Dio Voi siete un popolo speciale Siete dei figli speciali Voi siete stati riscattati A caro prezzo Dio ha pagato un prezzo altissimo Voi siete veramente La pupilla dei suoi occhi Voi siete speciali Sapete? Ci sono persone Che non sanno di essere speciali Ci sono persone Che vivono Nella Nell'insicurezza Ci sono persone Che vivono Nell'anonimato Ci sono persone Che vivono Veramente Nella depressione Perché non sanno Chi sono Non sanno Di essere speciali E non so Se avete letto Il calendario C'era una storia Qualche giorno fa Me la ricordo E c'era questa ragazza Che era piena di complessi Complessi di inferiorità Non so se Ve l'avete letta? Non leggete il calendario Ok Daniela ma che cosa Le compri a fare? Vabbè Allora Questa ragazza Era piena di complessi E non si sentiva Per niente speciale E questa tristezza Era così evidente Che un vecchietto A un certo punto Gli ha detto Compra quello specchio Sai quegli specchi Da trucco no? Compra quello specchio E lei così Ha dato retta A questo vecchietto E ogni volta Che apriva lo specchio C'era una voce Che diceva Tu sei speciale Tu sei speciale Tu sei speciale E questo Gli ha dato modo Di prendere sicurezza E questo Gli ha dato modo Di avere una convinzione Ha iniziato a cambiare La sua vita Ha iniziato a atteggiarsi In un altro modo Lei apriva lo specchio Questo specchio Gli diceva Si guardava Vedeva che era lei E diceva Tu sei speciale Tu sei speciale Era una cosa meravigliosa Tu sei speciale E lei ha iniziato A credere che era speciale E ha iniziato A comportarsi Come una persona speciale Ha iniziato A vivere una vita speciale Perché? Perché c'era uno specchietto Che quando veniva aperto Diceva Tu sei speciale È incredibile Ma sapete cosa è successo? Un giorno Lo specchietto Gli è caduto Si è rotto E non c'era più nessuno Che le dicesse Tu sei speciale E lei tornò Ad avere depressione Insicurezza Aveva perso fiducia In se stessa Perché? Perché non c'era più Uno specchio Che le diceva Che era speciale Una voce Che le diceva Che era speciale Molte volte Noi abbiamo bisogno Di qualcuno A fianco Che ci dica Tu sei speciale Ma sapete Cosa c'è di più bello? Che un giorno Trovava il calendarietto Anche lei E trovava un foglietto Che diceva così Io sono morto per te Perché tu sei speciale Con amore Gesù Io sono morto per te Perché tu sei speciale Con amore Gesù E improvvisamente Questa ragazza Scoppiò a piangere E si rese conto Che la sua vita Aveva molto valore Quanto meno Aveva il valore Di una vita Ancora più preziosa Che era Quella di Cristo Perché? Perché Cristo Era morto per lei Allora Si rese conto Che era veramente speciale E iniziò a vivere Come una persona speciale Perché? Perché Dio Aveva un piano per lei E aveva deciso Di farle del bene Perché era una sua figlia Il bene più grande Che Dio ci ha fatto E quello di offrire Gesù sulla croce Perché? Perché noi siamo speciali Voi siete persone speciali Perché? Perché Dio Vi ha reso tali Perché Dio vi ama Perché siete figli di Dio Perché Gesù è morto per noi Noi siamo persone speciali Dio vuole farci Del bene E non permetterà Che noi dipendiamo Da specchietti Da circostanze Dal parere di altri uomini Di altre persone Molte volte noi pendiamo Dalle labbra degli altri Sapete Mi è successo Quando Quando sei un po' più giovane Anche nel ministero Una volta Spesso lo dico No? Quando finivo di predicare Se qualcuno Non mi veniva a dire Complimenti pastore Bella predica Andavo in depressione Dicevo Si vede che ho fatto schifo Non mi è piaciuto nessuno Nessuno che mi dice niente Dico Caspita È un bel problema Poi improvvisamente Ho capito Che io non devo dipendere Dalle circostanze Dalle persone Che mi dicono Complimenti pastore Che bella predica Io devo dipendere da Dio Io so che sto facendo Quello che posso E sto dando il meglio Che posso Perché Dio È qui Io non dipendo Dalle persone Io dipendo da Dio E io so che un giorno Dio mi dirà Ben fatto mio fedele servitore Se è stato fedele in poca cosa Ti costituirò Sopra grandi cose Io faccio la mia parte Con onestà Dio Poi mi ricompenserà Quindi Non dobbiamo dipendere Da specchietti Da persone Da circostanze Dobbiamo dipendere da Dio È Dio che ci vuole fare del bene È Dio che ci ha scelto È Dio che ci ha messo In una posizione onorifica È Dio che ci ha posto In un luogo Dove possiamo servirlo E ognuno lo può servire Come Dio ha Stabilito Non c'è niente di più bello Che essere noi stessi E servirlo con naturalezza Laddove Dio ci ha posto Se ci ha messo a fare un lavoro Facciamolo con gioia Perché quello è il lavoro Che Dio ci ha affidato Che sia piccolo Che sia grande Che sia di rilievo Che sia meno di rilievo Per noi diamo Un valore All'apparenza Dio non guarda l'apparenza Dio guarda il cuore Il fatto di essere qua sopra Predicare Non vuol dire che sia migliore Di chi dopo farà le pulizie in chiesa Siamo tutti Uguali se facciamo le cose con onestà Sapendo che Dio È al controllo Di persone speciali Amen Quindi Primo poi Tutto quello che è intorno a noi Finirà Primo poi Tutto quello che ci può incoraggiare Per un momento Si romperà L'unica certezza È l'amore di Dio Che ha per noi E Per questo amore Vuole solamente Una cosa Poterci fare Del bene E sai una cosa Prova gioia Quando noi Gli lo permettiamo A volte siamo noi Che non permettiamo a Dio Di farci del bene A volte siamo noi Che contestiamo Recriminiamo O facciamo a botte con Dio Pensando di Chissà che cosa Forse non capiamo Ma Dio ha un piano Meraviglioso Per ognuno di noi E questo piano È solo per farci del bene È inutile che recriminiamo È inutile che contestiamo È inutile che vogliamo Essere in posizioni Dove sono Dove non sono nostre Noi siamo nel posto giusto Nel momento giusto Perché siamo Nelle mani di Dio Che ci ha posto lì Amen Quindi Cosa vuole farti Di oggi Del bene Perché Perché sei speciale Dove lo devi ricordare Questo Nel tuo cuore E ogni volta Che sei in difficoltà Ogni volta Che sei Un po' in paranoia Ogni volta Che sei giù Inizia a ricordarti Semplicemente Queste due cose Io sono speciale Perché sono Suo figlio E Dio vuole farmi del bene Amen Ci alziamo in piedi Io non voglio Perdere molto tempo Però Sento che è giusto Chiedere Se c'è qualcuno Che Che non si sente Poi così speciale Forse hai bisogno Di un aiuto Questo aiuto Non ti arriverà Da uno specchietto Non ti arriverà Da una persona Che ti ripete Tutte le volte Tu sei speciale Questo aiuto Ti può arrivare Solo da Dio Questo aiuto Ti può arrivare Solo dal cuore Paterno di Dio Ti può arrivare Solo dallo Spirito Santo E tu sentirai E tu sentirai E tu sentirai questa voce Che ti sussurrerà Io voglio farti del bene Permettimi di farti del bene Perché? Perché tu sei speciale Tu sei speciale Allora se c'è qualcuno Oggi Che è triste Che non si sente amato Da Dio Che non si sente capito Da Dio Che sta Avendo dubbi Sull'amore di Dio Che sta avendo dubbi Sul fatto di essere Una persona speciale E che sta avendo Soprattutto dubbi Sul fatto che Dio Vuole farti del bene Insomma Se hai qualche dubbio Oggi Vieni qui davanti Vieni qui davanti Preghiamo insieme Tu uscirai Completamente Ma dico completamente Con un'altra certezza Dio ti amo Dio ti amo Io so che ci sono Diverse persone Non siete tante Grazie a Dio Però questa predica Oggi è per voi Persone insicure Che non hanno ancora compreso Che Dio le ama Persone insicure Che non hanno ancora compreso Che siete speciali Una Due Forse siete quattro Cinque Sei Sette Io Vieni 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 Tre Io Io contate sette Dai Sette sette almeno Sì Non è che c'è un dono Di rivelazione Vedo dalla faccia Siete lì con Questo desiderio E dire adesso vado Adesso vado Adesso vado Poi molti non li vedo Quindi non lo so Però almeno sette Le ho viste Adesso vado Adesso vado Sono quattro Altre tre Dai dai vieni Non ti preoccupare Vieni 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 Siamo su un bel barcone Tutti assieme Ognuno Nella nave Fa qualcosa C'è chi pulisce il ponte C'è chi Si governa I motori E sapete C'è anche chi Dirige Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ui Sono sette Incredibile Vabbè se c'è qualcun altro Può venire Non è che ci Ci limitiamo a loro Però adesso noi vogliamo Pregare per loro Affinché escono di qua Con una convinzione Nuova Voi non dipendete Dalle circostanze Non dipendete da qualcuno Che vi vuole fare sentire Meglio Voi dovete imparare A dipendere da Gesù Cristo Che vi ama E ha dato se stesso Per voi Perché? Perché voi siete speciali Perché? Perché vuole farvi del bene Amen? Dite com'è Dio vuole farvi del bene Dio vuole farvi del bene Adesso vi domando Quando? Ora Ora Quando? Ora Adesso In questo momento Dio vuole farvi del bene Ora Amen? Oh che meraviglia Se c'è qualcun altro Si sente libero Noi adoriamo Dio Ritorno a te Alla tua presenza Ritorno a te Al mio primo amor Con tutto il mio cuore Io ti adoro Io ti adoro Signore Con tutto il mio cuore Ritorno a te Per dirti ti amo Per dirti ti amo Per dirti ti adoro Per darti il mio amore Per darti il mio cuore Tu sei la mia vita Tu sei la mia forza Tu sei la mia forza Signore Ritorno a te Alla tua presenza Ritorno a te Ritorno a te Ritorno a te Ritorno a te